E ciao a tutti ragazzi bentornati su yokai watch italia Oggi sono uscite le gnambo coin, le golden gnambo in occasione della golden week E con questo un casino di yokai che ovviamente nessuno trova perché le gnambo vanno a culo o shoppi O nel 99,9% dei casi non trovi niente da quelle gratuite Abbiamo questo nuovo ZZ che se ci fa vedere Energy Max sarei anche molto contento Non ce lo fa vedere, perfetto, benissimo Comunque vi vado a dire velocemente le missioni E se non avete capito comunque ve le lascio in descrizione Io comunque le ho fatte, devo solamente donare l'ultimo spirito che ho fatto E dovremo averle finite tutte e cinque Le missioni sono molto semplici, sono un pochino lunghe La prima missione è quella di sconfiggere vela nera Boss della seconda mappa del gioco Credo che l'abbiate sconfitto tutta almeno una volta Donare 30 spiriti agli amici Fare 300.000 punti o più nello score attack Entrare 30 volte in fever, quindi delirio E fare 60 sfere bonus Finite tutte e vi daranno la gnambo Andiamo a slottarla E vediamo un po' che cosa ci darà Prima però di andare a slottare Voglio un mi piace Un'iscrizione Seguirci su Instagram Che è molto importante E niente Prima andiamo a slottare un po' di coin a caso Per scaricare la sfortuna Per esempio questi coin qui che ci sono avanzati dal Dalla ruota di yoga vocitari che è stata tolta Attenzione Vi adoro Cosa sarà? Tra un rango S? E un rango S Non so cosa possiamo trovare in queste monete Non lo so Credo solo schifio Però Noi comunque le slottiamo Andiamo con la moneta G3 Vai Vai No rossa Chiediamo un po' No rango A Più 1 Perché era già Era già maxato Andiamo con la G4 Attenzione Vai Attenzione E comunque è oro Ok un S Va bene Ci sta Ci sta Ci sta Perfetto Adesso Andiamo Faccio una singola Non ditelo a Fabio Ma faccio una singola Io faccio Faccio una singola Guardate i nostri Ponte Attenzione Singola Cosa ci dai? La Z? No Un S Ci ho sperato Ci ho sperato Per prima di andare a slottare la gnambo Dobbiamo andare ad attivare Ovviamente Il tempietto Vai Buttiamo sti 100 yen Il vecchio qui Ci porta sempre una fortuna incredibile Tra l'altro Faccio vedere Che abbiamo ottenuto Una marea di segreti Questi qua Ci saranno Strautili Nel prossimo evento Che non si sa ancora bene cos'è Ma comunque Uscirà Venerdì Quindi Saremo in live ovviamente Come al solito Per pullare e giocare Quindi Andiamo Gnambo Let's go Prego C'è lo Z Z Madonna Che bella la slot C'è lo Z C'è lo Z Z Che ha Più rate Rispetto allo Z normale Quindi Tanto ci darà un SS Ok SS vero? Ci sarà Ci darà un SS Niente Che scammata Ci ho creduto Perché Non lo so Niente Questo era la gnambo Che bello eh 0700 Con lo Z Z 0300 Con i Z Io vorrei tantissimo Trovare Darker Inn O Akala Oppure anche Shogado Sarebbe fichissimo E niente Questo era la gnambo Questo era il video Comunque le missioni Sono in descrizione Iscrivetevi al canale Ti vediamo la campanella Ci vediamo alla prossima